Come si misurano gli angoli? Il goniometro! Ma cosa significa goniometro? Si chiama goniometro perché molto tempo fa c'erano dei signori che si chiamavano recchi o grechi e allora invece di dire angolo che cosa dicevano? Lo chiamavano goniometro e sai che cos'era il gon per loro? Questo è interessante perché era il ginocchio e allora quanto può andare il ginocchio secondo voi? Come si può piegare la gamba così? Si può piegare finché voi potete farlo finché toccate qua Quindi quello sarebbe che cosa? Un angolo piccolo piccolo? E quando non c'è più che numero si usa per indicare una cosa che non c'è? Zebra!